Parliamo adesso di un RPG Jap che ha ricevuto un eccellente consenso di critica con una media metacritic superiore a 90 ma che arriva in Europa con oltre un anno di ritardo rispetto all'uscita giapponese avvenuta pensate un po' nell'estate del 2010. Ci riferiamo a Xenoblade Chronicles sviluppato da Monolith Soft e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Wii. Si tratta di un gioco enorme, vasto e articolato che ridefinisce il genere Jap RPG, una piacevole divagazione insomma dei tipici titoli casual per Wii. Il nostro Fabio Devoti ha passato parecchie ore in compagnia di questo gioco. Ecco la recensione. Molto tempo fa il mondo non era altro che un oceano racchiuso in un cielo infinito, poi all'improvviso fecero la loro comparsa Bionis e Mechanis, due divinità impegnate in una battaglia senza fine che le porterà ad esaurire tutta la propria linfa vitale proprio nell'istante del colpo finale. Miliardi di anni dopo, dai loro resti, nasceranno due forme di vita, pure queste in lotta tra loro, gli OMS, popolazione simile agli esseri umani, e i Mechan, dei robot affamati di carne umana. Dopo innumerevoli scontri, gli OMS riusciranno finalmente a trovare l'unica arma in grado di distruggere gli odiati nemici, una spada misteriosa chiamata Monade. E proprio attorno a questo oggetto leggendario ruoterà la storia di quello che è senza dubbio uno dei migliori JRPG dell'attuale generazione. Xenoblade Chronicles in realtà non apporta innovazione al suo genere, ma fa tesoro degli errori commessi dalle produzioni avversarie, proponendo meccaniche di gioco classiche ma riviste migliorate sotto ogni aspetto. I fan dei JRPG si accorgeranno da subito che il sistema di combattimento è molto simile a quello Final Fantasy XIII. In ogni scontro, i giocatori avranno la possibilità di controllare il personaggio da loro scelto, muovendolo per la mappa e decidendo quale tipologia di colpo sferrare al nemico di turno. Sebbene gli attacchi base vengano eseguiti automaticamente, quelli speciali dovranno essere selezionati attraverso un semplice menu, che spiegherà verso quale punto dell'avversario andranno indirizzati al fine di causargli il massimo danno. Diventerà quindi fondamentale trovare la giusta tattica da usare contro ogni mostro, considerando che i compagni saranno gestiti dall'intelligenza artificiale. Un altro aspetto fondamentale del gioco sarà l'uso della monade, i cui poteri verranno svelati nel corso della storia. Ad esempio, uno dei poteri sarà la possibilità di prevedere il futuro. Quando uno dei nostri personaggi sarà in procinto di subire un colpo mortale, si attiverà infatti un brevissimo filmato che anticiperà questo avvenimento, permettendo così di agire per scongiurarlo. Apprendere al meglio le finezze del sistema di combattimento di Xenoblade Chronicles richiederà alcune ore di pratica. Monolith Soft ha dato molta importanza anche al fattore esplorazione, che porterà a visitare la mappa in lungo e in largo alla ricerca di nuovi mostri da sconfiggere, di oggetti nascosti da trovare e di nuove missioni da affrontare. A differenza di quanto avviene con altri giochi di ruolo, in Xenoblade per completare una missione non si sarà costretti a tornare dal personaggio che ce l'aveva affidata. Inoltre si potrà salvare la partita in qualunque momento. A livello tecnico Xenoblade Chronicles non è perfetto. L'impatto visivo, sebbene al top tra i titoli Wii, soffre il confronto con i titoli usciti su Xbox e PS3 a causa delle limitazioni hardware della console Nintendo. Da segnalare anche l'assenza di supporto ai sensori di movimento e di puntamento del remote, che rendono quasi obbligatorio l'acquisto del classic controller. Un plauso invece per il comparto audio, che raggiunge l'eccellenza grazie al lavoro di Mitsuda e Shimomura, cui si devono anche le musiche di Final Fantasy e Kingdom Hearts. La decisione di Nintendo di non localizzare in italiano i dialoghi di gioco ricorrendo unicamente ai sottotitoli farà felici quegli utenti spaventati dai doppiaggi maleseguiti. In conclusione, Xenoblade Chronicles è forse il gioco di ruolo giapponese meglio riuscito degli ultimi anni. La trama, sebbene presenti molti cliché, è bella e interessante e spingerà fin da subito a proseguire per completarlo. Cosa che non accadrà troppo presto, visto che anche escludendo le missioni secondarie si parla di oltre 50 ore di gioco. Il sistema di combattimento, pur essendo abbastanza complesso, una volta appreso risulterà molto appagante. Quello che lascia più a desiderare è l'implementazione del Wiimote, assolutamente impreciso e scomodo da usare, specie rispetto al classic controller. Grazie a tutti! Grazie a tutti!